eccomi ragazze allora eccomi qua bentornati in un altro nuovo video dopo quello che ho girato poco fa sul video che riccio allora se parlo piano è perché siccome che ho un dolore fortissimo ai denti cioè da questa parte quindi cerco di parlare piano e più più secondi fammi capire perché uno studente c'è poco da parlare scaldendo bene però non è perché fa male cane già lo sto facendo e mi fa male vabbè dettagli comunque questo video dei preferiti sui miei capelli come curo i miei capelli sarebbe esattamente come curo i miei capelli ricci perché sono dei ricci allucinanti ribelli aspettate un attimo eccomi qua allora questi ricci ribelli sappiate bene che per districarli utilizzo sia questo che questo qua questo che mi sta aiutando tantissimo sarebbe questo della fruttees poi questa è la spazzola come potete ben vedere si è un po' sozzina ma era in doccia non ci fate caso quindi questa qui è la mia bella spazzola bellissima la adoro mi piace molto perché prende bene tutti i capelli e lì si lo so potrebbe sembrare che rovina i capelli ci vorrebbe una pendetta tangle teaser ma a me non mi va di acquistarla e mi arrangio con questa vedete non è pratica per i capelli come i miei vedete però me la faccio bastare perché non vado di spendere altri soldi per una spazzola della tangle teaser ecco qua vedete questa è la barca e lison e lison si qua questo è la spazzola comunque sto parlando da mezz'ora che è la spazzola come questo dunque questo è lo shampoo per maschera quel che è capelli da mossi a ricci veramente molto buono e ce n'è un formato da 400 ml di prodotto come potete constatare questo è a pistacchio però io deduco che non abbia sentori di pistacchio ma di papaya non saprei però vabbè niente tutto ciò mi fa dedurre che non sia anche pistacchio ma solvoliamo che miglia mi sa di papaya chissà perché ha un profumo bellissimo non lo apro perché tanto lo sento lo stesso e niente è anticrespo e anti umidità non appesantisce né appiccica i capelli è già una buona cosa questa quindi ragazzi non ho neanche bisogno del phon come potete ben vedere come come prodotto mi aiuta bene a togliere i nodi dei capelli quindi mi piace da morire poi anche persiste anche come perfumazione sul capello anche se io non le lavo tutti i giorni perché è uno stress ma quando mi voglio colare ancora di più la sera entro in doccia e mi lavo usando questo sulla testa ed è molto buono poi come prima altra maschera utilizzo questa qui che l'ho visto da giulia blooms non mi ricordo si da giulia comunque si ed è questa qui all'ultra dolce garnier questa alla maschera riparatrice intensa questa qua si legge si linea d'acero maschera riparatrice intensa olio di mandorle vedete molto buona molto buona e la texture è questa qui che la apro questa è la texture aspettate che non voglio sporcare si lo so vedete un cappello non è il massimo ma vabbè non fateci caso aspettate che per alzo di più questa è la texture ha una formazione ragazzi che è la fine del mondo non so come dire del mondo vabbè non si può dire ma perdonatemi ma è troppo buona ragazzi ma cos'è questa maschera la tengo in posa allora c'è scritto qui che per massimo posa cinque dieci minuti no neanche quanto tre tra i quattro e cinque minuti no aspettate tra i tre e cinque minuti di posa li lascio per agire ma io la tengo anche di più perché almeno i capelli diventano belli morbidi tsetosi e impregnano bene la maschera l'assorbono bene e mi aiutano a sprogliare bene i nodi anche non solo con questo con questa qui ma anche con questa qui è molto buona e ce n'è quanto ce n'è non lo vedo a 300 ml di prodotto vedete si si vede 300 ml di prodotto e niente mi sta piacendo un mondo io adoro questa maschera ha una profumazione così buona così top cioè e la amo non lo so perché poi direte adesso che ti piace di più tra questa e questa questa non so perché mi piace da meglio tantissimo troppo buona anche questa non so perché ma mi hanno preso in fissa questa poi sapete dire perché io non lo so sicuramente poi come ultimo prodotto non per importanza basta nutriente con un di con un di fiori preziosi intensa brillantezza e morbidezza e capelli secchi infatti i capelli abbastanza secchi non è che non li lavo spesso li lavo spesso però ragazze a questi quanti ce n'è 200 muli di prodotto e capello io lo lavo una volta settimana perché se quando quando ero più ragazzina lavo tutti i giorni però mi si stressava troppo il capello e allora ho deciso che diventando all'era più adulta cioè andando su andando e al come posso spiegarmi sì andando passando la fase adulta li sto lavando solo una volta settimana per non mi sentire troppo il capello è vero che sembra più opaco anche se li potrei lavare che sembra può sembrare meno opaco se li lavo più più giorni però non voglio neanche dargli troppo stress i capelli potrei però tutti i giorni ma se proprio si stressa il capello non ne vale la pena perché perderei tutti i capelli quindi proprio che è sufficiente lavare una volta settimana stop e mi sento a posto forfora mi chiedete se ho forfora non ne ho vabbè c'era un periodo che ero stressata e avevo la forfora adesso forfora grazie a dio non ne ho perché li sto curando abbastanza bene e il viso ve lo sto un po' trascurando ma quello ragazzi sono un po' stressata volete un po' perché ho pensieri che non c'entrano un cavolo con me ma non sto qua arrivo a dire perché ma mi sto un po' trascurando il viso mi trucco sì mi strucco tutto quanto faccio la mia skin che era abituale però i capelli sono la mia priorità mi piacciono di più oppure nei capelli non capisco perché comunque questo basso è il vive l'oreal vedete è il vive l'oreal mi sta piacendo davvero tanto ed è molto buono ha un paio di 12 mesi è il nostro consiglio perché è veramente un basso nutrizionale nutriente scusate nutriente molto buono niente ragazze questo era tutto io comunque con i capelli faccio così prendo il ciuffo e faccio così lo accompagno per non spezzarlo perché mia nonna la piccola mi ha insegnato a non strappare i capelli a non tirarli a tenere ciuffo per ciuffo ma va ho scoperto dell'acqua calda è vero ragazze così se non si tengono i ciuffi per ciuffi il capello si può spezzare facilmente perché mio è un capello purtroppo non fragile ma fragilissimo come credo alcuni ce l'avranno fragili come quasi tutti non so come vedete una stupidata però è così ragazze io i capelli ci voglio curarli come facevo quando ero ragazzina anche di più perché non voglio stare col capello troppo disordinato e quindi mi tengo più ordinata almeno col capello non dico solo il corpo o anche il viso ma anche il capello me lo voglio a posto più possibile e niente chiedo a dirvi bello ragazze io vi saluto ringrazio per l'ascolto e noi ci vediamo in un altro video che non so quando andrà in online qua a segno a youtube bacio e a presto ciao a se vi è piaciuto questo video non ve l'autorizzazione mettete un like ma tanto nell'editing metterò una post per dire se volete mettere like e niente cos'altro dirvi a seguitemi su instagram come youtube merania 3tino va sotto perché appena posso che rientro anche su instagram farò qualche foto o qualche diretta non lo so adesso vedremo un po e noi ci si vede al prossimo video appunto like un po' pollicelli su che non guarda nessuno e anzi fa solo bene al canale o giù non importa basta che si iscrive il perché so che farò che sono pietosa ma io vivo lo stesso anche di tesis like e pollicelli su giù basta che però mi abbiate una reazione abbiate una reazione ai miei video che interagiate come si dice che interagite non importa che abbiate un'interazione con i miei video parlate attraverso i commenti o il tesis like qualche guardate voi basta ragazzi un bacio e iscrivetevi attivate la campanella e appunto ciao stop qui